Dopo essere stato uno dei blockbuster più discussi del 2017, Justice League, il cinecomic che ha riunito per la prima volta sul grande schermo i principali eroi dell'universo DC Comics, si appresta ora a infiammare il mercato dell'ome video. La divisione nazionale della Warner Bros. Home Entertainment ha infatti annunciato che il film diretto da Zack Snyder sarà disponibile nei negozi a partire dal 21 marzo nei formati DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD, pronto per essere rivisto comodamente seduti sul proprio divano di casa. Molti contenuti speciali presenti nelle edizioni in alta definizione, tra cui numerosi approfondimenti sui protagonisti, making off delle scene più adrenaliniche, interviste al cast e ai produttori e un'esclusiva scena eliminata. Chi si aspettava di poter mettere le mani su una versione estesa di Justice League, come successo per Batman v Superman, o una Zack Snyder Scoot probabilmente resterà deluso, ma questa decisione non esclude la possibilità che in futuro venga rilasciata in nome video un'ulteriore versione del lungometraggio. Di seguito vi proponiamo nel dettaglio packshot e contenuti extra delle varie edizioni del film. La versione DVD di Justice League è accompagnata dall'esclusiva Featuretti Road to Justice, un viaggio che, partendo dalle avventure a fumetti e arrivando al suo debutto cinematografico, ripercorre i 50 anni di vita del supergruppo. Le edizioni Blu-ray, Blu-ray Digibok, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD del film contengono invece, oltre a Road to Justice, i seguenti contenuti speciali, In attesa di scoprire quale sarà il prossimo cinecomic di Cicomics ad arrivare nelle sale, siete pronti a gustarvi l'epica azione di Justice League sul televisore di casa? Quale tra queste edizioni farete vostra non appena disponibile?